eccoci ragazzi benvenuti a una nuova puntata di 104 fishing bello bello buongiorno a tutti ragazzi oggi come vedete siamo tornati ai laghi le meraviglie ma questa volta c'è una novità ragazzi hanno messo i lucci e quindi che fai una pescata al luccio non te la fai pare brutto e quindi siamo qui di nuovo si prova il luccetto oggi si prova il luccetto si prova il luccetto ora vediamo un attimo come è la situazione ho già montato le canne si non le vedete però sono montate non vi preoccupate e niente ragazzi ci vediamo tra poco ciao ciao ragazzi facciamoci due ranci nessuno ha preso niente fino adesso un po' triste è la situazione e giacomì ma è malissimo un signore invece è un mosca che sta prendendo come un assassino vedete che diciamo che oggi fa abbastanza caldo non sono manco più buona lancia comunque è giusto che i piccoli stanno nel merda oggi facciamo una pescata nel merda vabbè dai rau ma proprio brutta 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 niente di niente niente di niente e tra poco cambio spunna si lucci che per me non esistono è stata una bugia per me ci hanno preso in giro hanno provato di tutto insediati con qualunque tipologia di cosa giacomino ha buttato al secchio una canna la 10 una cannetta e basta ma io non ci provo manco per finta di salvisti no jacopino io ero del culo ma praticamente niente ragazzi è quasi l'una abbiamo ancora preso niente nessuno dei due e ora cambia su uno manco l'arancione funziona più male 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 prima giacomino un paio l'hanno attaccato ma basta niente di che eh proprio per me gli sono passati vicino gli hanno dato una scodata e basta a me manco questa me la dedichi la dedica a tutti noi il giacomino ragazzi ha cambiato spunz vediamo un po' che se dici a ripobrosa io ne so che se dici eccola ragazzi in diretta jacopino analino apri un po' no dici olè presa scappoto blu 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 cor verde acqua blu blu scappoto blu blu indiretta 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 boys è arrivati si che sono duda duda olè indiretta indiretta la vediamo e via e via si scappoto ragazzi eccoci ragazzi ho ricambiato spum non siete però ok e via lanciamo no total fucsia total rosa picco fucsia vediamo un po' che si riconta trovate che se dici a ripobrosa e che ne so che se dici a ripobrosa brrr 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 trova 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 Sì. Mamma mia se rigira un'altra volta qualcosa mi fa venire attacchi epilettico Oh spoon Da una parte è scurissimo e dall'altra è accesissimo Se è troppo Ragazzi abbiamo quasi finito il tempo A dopo Giacomino ha preso qualcosa Cazzo ho agganciato qua Spero tanto non sia un amore Certo perchè sennò stucca tutto La devi fare andare distinta la pietra e poi dalla rimbrica la pietra È tutto il filo del vuoto Hai retura un po' Faccio che sia un amore Che magari non fai prenderla E' altrimenti passati E' il sacco Beh E' ripartita Ho visto che giravano qua sotto Si Ho visto che è rinforzato Ok Ecco Ecco E' rinforzato non c'è questo con l'altro col vino e con l'altra fatta luce però se è davvero un amo abbiamo utilizzato per l'altra spostate qualcosa di ricordato di filo ce l'ho preparati tutti e due di sicurezza è una trota trota? trota si trotone ripartito trota è una stanca vedo comunque questo andiamo qua con avanti ragazzi ripartita ripartita però ripartita però ripartita 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 bloc Svalinata, si è svilamata, oh che bestia, madonna raga, che bestia raga, ma questo è un tacchino, aspetta fammi fare una cosa, si la tengo in acqua, bella ragazzi, bella bella bella, bella bestia, e il giacolino scappotta, così, Sì, si è svilamata? Sì, ok eccola qua, è andata ragazzi, svilamata è andata via, subito, vai, è un ragno dell'acqua, hai visto? Sì, no ragazzi scusate ma abbiamo visto una scia tipo, ma che è uno squalo, invece no era semplicemente un ragno d'acqua, Era incredibile, abbiamo detto no, la bestia, invece no, e niente ragazzi, noi stiamo andando via, vedete proprio gli ultimi lancetti, diciamo che questo è stato un anno particolare, si, e si è chiuso in maniera particolare, nel senso che è uscita una big, Molto inaspettata, si, diciamo che Giacomino ha sballato abbastanza, beh, abbastanza, si, mi sono fatto un bel combattimento, si, si, dovrei averlo messo tutto senza tagli, adesso vediamo, dipende come, nel momento di editing, come, come viene, insomma, E niente, per il resto, adesso ragazzi, vuole che dirvi, stiamo pensando a nuovi progetti, si, nuovi orizzonti, per l'anno prossimo, vediamo un po', vediamo che questo 2021 vada un po' meglio, decisamente, e niente, boys, niente ragazzi, che dire allora, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, lasciate un bel commento, che ci fanno sempre piacere, come al solito, Mi raccomando i commenti, si, infatti, ne vediamo sempre pochissimi, e ci rimaniamo abbastanza male, senza offesa, e niente ragazzi, condividete per aiutarci a crescere, pollicione, iscrivetevi, iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici, e niente ragazzi, per dire, ciao ciao!